E siamo allo sport con il football americano perché domani alle 18 allo stadio della Palla Ovale i Dolphins Ancona ospiteranno i primi della classe, i Marines Lazio. Per parlare di questa importantissima partita diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Paolo Belvederesi, general manager della squadra e giocatore da 26 stagioni. Buonasera e accanto a lei Michele Marchini, ricevitore dei Dolphins e anche della Nazionale. Buonasera e anche il capitano della squadra domani. Allora Paolo incominciamo da lei perché è importante vincere domani? Vincere domani è importante come sempre perché vincere non è tutto ma vincere è l'unica cosa che conta come diceva Vince Lombardi. Per noi domani uno scontro diretto con la prima della classe, l'andata abbiamo perso perché ci mancavano molti giocatori compreso l'americano Nick Harris. Domani saremo a completo, vedremo di fare il massimo per portare a casa la vittoria e raggiungere i Marines in vetta alla classifica. Ecco Michele Marchini ci sarà un po' di scaramanzia ma insomma è l'anno buono per lo scudetto. Come si sta preparando la squadra alla partita di domani? Ma guarda conta che noi sono tre settimane che non giochiamo per via del calendario e sono sicuro che i nostri coach, i nostri allenatori hanno preparato al meglio la strategia vincente per domani e soprattutto nel nostro spogliatoio si respira un'aria buona, non di ansia, non di preoccupazione ma mi voglio augurare più di concentrazione. Bene quindi per domani, allora diamo Michele un invito alla regione, ad Ancona a venervi a vedere domani al palazzetto della Palla Ovale. Sì l'appuntamento è domani ore 18 appunto come hai detto tu allo stadio della Palla Ovale. Paolo poi ci sono anche altri appuntamenti che avete già in calendario? Sì, la prossima partita successivamente a questa sarà quella che chiuderà la regular season il 6 giugno sempre alle 18 nell'ambito di una manifestazione che si chiama ancora per lo sport, lo sport per tutti. Giocheremo alle 18 contro i Warriors Bologna, a seguire ci sarà la finale Coppa e Campioni in Megascreen. Dopodiché il 13 giugno la prima partita di playoff scudetto che giocheremo in casa contro chi non sappiamo ancora. Speriamo che sia una partita vincente perché da quei giorni in poi comincia quella che si chiama do or die season, vincere o morire. Chi vince va avanti, chi perde e finisce la stagione. Davvero in 10 secondi la partita di domani sarà anche dedicata a qualcuno, vero? Sì, da parte dei Dolphins Ancona e sicuramente degli Angels Pesaro dedichiamo la partita a un compagno che non c'è più. Ciao Giancarlo. Grazie allora ai nostri ospiti e in bocca al lupo per domani. Noi proseguiamo con il...